che fanno i loro ingressi in campo, accompagnati ovviamente dai bambini, dai più piccoli, italiane e europee, quest'anno tante squadre straniere, vi vado anche a leggere la Terna è iniziata in questo momento la sfida tra Roma e Atalanta, talentuoso Guaglianone, prova a saltare un avversario e c'è Libero, lei c'è il compagno dal limite dell'area, conclusione, la palla è alta Palla all'indietro, attenzione, occasionissima per Roma, primi minutini, Atalanta adesso però sta vedendo fuori benissimo la Roma, attenzione ancora Guaglianone, Trinara si rimane l'avversario palla al centro per Dos Santos e c'è il gol della Roma una bellissima azione alimentata vedete lì davanti, prova adesso Sissé, subito, davanti al portiere, Sissé, Sissé e c'è il pareggio dell'Atalanta, proprio lui ha penetrato non sono trascorsi forse 30 secondi ma se ne va intanto ancora Dos Santos, attenzione, non riesce a concludere sotto porta dopo una splendida azione di Dos Santos è ancora Roma però, insiste palla bellissima per Dattilo che prova la rovesciata incredibile gol del 2 a 1 della Roma anche qui con il nuovo entrato Dattilo si riporta in vantaggio la Roma al Guaglianone Dos Santos voleva la triangolazione con Guaglianone invece c'è la conclusione dalla distanza la formazione in questo momento in vantaggio il mister D'Andrea, infanzi, riparte creando pericoli una palla di Guaglianone splendida per Dos Santos che si gira attenzione, Dos Santos Guaglianone palo vicinissimo al 3 a 1 la Roma con Guaglianone Atalanta, Pansera, si continua a giocare Atalanta in possesso della sfera attenzione, alla possibilità di tirare Aldieri e c'è la parata in calcio Roma vicinissima al suo primo successo in questo torneo Magliuselis Guaglianone combatte in mezzo al campo ruba un ottimo pallone c'è spazio per lui Dos Santos a campo libero Dos Santos viene fermato ma c'è ancora il gol della Roma ancora lui Dos Santos che firma il 3 a 1 la Roma mette il sigilo questa gara ancora con Dos Santos combatte ancora se si è con Costantini ancora sta controllando il cronometro il signor Colombo e termina qui la Roma vince la 26esima edizione del torneo mondiale Maglio Selis 3 a 1 sull'Atalanta con i gol di Dos Santos sull'Ado Pieta e di Dattilo il pareggio momentaneo di Sissema e la Roma la squadra paz fare grazie l'Atalanta che ti vai piarmi da tra l'Atalanta che ancora non ha un